Eccoci, ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti, finalmente col sole, mamma mia, meno male, adesso speriamo che dia continuità, così come la striscia positiva del Milan che deve continuare anche stasera. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, chi non lascia il like ti fa i lupacchiotti, i giallorossi, iscrivetevi da questa parte, iscrivetevi anche al mio canale personale che vi metto qui sotto nella descrizione, siamo quasi 21.000, mi piacerebbe arrivare oggi. Non solo, due cose, una novità importante, sapete il 3 maggio ci vediamo, vi aspetto numerosissimi alla festa di Milanello, al fil di Serenio ore 19.30, qui sotto c'è il numero per prenotare il vostro posto, l'ingresso costerà 15 euro complessivo di consumazione per i cena, una grande festa rossonera con tanti ospiti. E poi con la regia di Davide Rosseghini, sapete che è ripartito il progetto di Instagram, siamo già 3.000 iscritti, 3.000 follower, e apriamo un'iniziativa oggi molto molto interessante. E sono molto curioso di capire come finirà. In pratica nelle storie, con grafiche sempre molto intriganti e accattivanti, vi chiediamo di rispondere ogni giorno di partita del Milan a una sorta di votazione di sondaggio. Vogliamo poi creare, con il parere della community, la formazione l'undici rosso-nero più forte della storia, ruolo per ruolo. Quindi oggi si parte con i portieri. Chi è il portiere più forte da mettere nell'undici della storia rosso-nero? Questo gioco piaceva molto al grande Carletto Pogliani. Quindi oggi dovete votare tra Rossi, Megnan, Dida, che forse potrebbe esserci alla festa, forse, e Donnarumma. Votate numerosi, qui sotto c'è il link in descrizione, seguiteci ovviamente, e poi vedremo quale sarà l'undici votato dalla community, l'undici più forte della storia del Milan. E ringrazio intanto i ragazzi dei social che seguono con attenzione, con grandi capacità, anche lo sviluppo della pagina. Grandi, grandi, grandi. Allora ragazzi, a proposito di Donnarumma, ragazzi, ieri avete visto? Però è una costante, cioè, mi stupisco di chi si stupisce, o mi stupisco di chi fa finta di nulla. Poi prenderà anche lui i voti sul migliore portiere? Sono curioso di vedere quanta percentuale prenderà. Non dico io chi voterei, poi ve lo dico dopo la votazione, ma voterò anch'io ovviamente con il mio profilo. E ragazzi, ogni volta che è ottavi e quarti c'è sempre di mezzo, quasi sempre di mezzo, il suo errore o i suoi errori. Ieri due in quell'uscita maldestra e nell'occasione della mancata uscita nel finale. Quando nell'area piccola poi si prende il gol. E curiosamente TuttoSport dà 6 a Donnarumma. L'equip dà 3 a Donnarumma. Ogni tanto va ricordato che abbiamo fatto una salaria indoor pazzesca, anche se quest'anno Megnan non ha reso come due anni fa soprattutto l'anno scorso, però proprio non c'è paragone. Oltre che non c'è paragone dal punto di vista economico. Quello che prendeva uno e quello che oggi prende l'altro, quello che è costato complessivamente l'operazione dell'altro e che continua a prendere oggi. Quindi ragazzi, flop clamoroso. A voi dispiace? Io dico che chi fa le proprie scelte deve rispondere alle proprie scelte e fare quella scelta orientata ai soldi ha contribuito secondo me a portarlo a non fare bene da un punto di vista tecnico. Secondo me vive ancora di rendita, ma la rendita poi finisce dei rigori parati nel famoso europeo. Forza Megnan. Megnan ragazzi, rinnovo di contratto potrebbe avere un'impennata, dovesse entrare il decreto crescita secondo me. Il Milan arriverebbe a rinnovo, molto probabilmente. Ieri vi dicevo di questa possibile svolta. Nelle prossime ore avremo Nicolo Schira, faremo un punto di mercato con Nicolo e avremo anche un video da me realizzato con l'11 della prossima stagione con, ovviamente senza la pretesa di essere scientifico, con anche le maglie nuove, grafica realizzata dalla New Entry nello staff di Milanello, l'ottimo Filippo che davvero è un ottimo grafico e che se verrete alla festa incontrerete con tutto lo staff di Milanello il 3 maggio. Detto questo, su Megnan ragazzi, senza decreto crescita è sicuramente più complicato, però il dialogo prosegue. Ricordiamo che lui ha anche la vetrina del decreto dell'europeo e attenzione sempre a Di Gregorio, vi dicevo di Ramsdale come alternativa. Ieri tra l'altro l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti ha incontrato in un evento benefico pure Di Gregorio e vi confermo che ci sono stati contatti, più contatti tra il Milan e l'entourage di Di Gregorio che da milanista sogna ovviamente di vestire i colori rossoneri e i guantoni rossoneri. Sono giorni importanti, ci sarà sicuramente un'escalation di notizie perché siamo ormai all'11 aprile e ora decideremo un po' tutto. Intanto in questi dieci giorni mal contati si deciderà probabilmente il futuro della panchina di Pioli, ma si decideranno anche questioni societarie. Speriamo che la vicenda legata all'indagine finisca rapidamente così che si possa riprendere in maniera più proficua i dialoghi con gli investitori arabi che sono importanti per il futuro del club, oltre che di Cardinale, anche perché Cardinale tra un anno e tre mesi deve restituire questi 600-700 milioni di euro. È importante anche da un punto di vista societario con tante cose che possono accadere. Nel prossimo video ovviamente parliamo anche di altro, c'è anche un'iscrizione clamorosa, ma andiamo a parlare ovviamente anche della partita di stasera che non ho dimenticato, anzi questa mattina mi sono svegliato un po' con quella elettricità, con quella adrenalina, non come un gol di Pippo Inzaghi, però propedeutica e diciamo così antipasto di un gol di Pippo Inzaghi. Quindi già oggi qualcosa di più si capirà anche di Pioli. Ma indipendentemente da Pioli c'è Cardinale a Milano. Cardinale a Milano vuol dire F5, refresh sul discorso stadio, vuol dire riunioni con i dirigenti, già oggi ma anche domani, incontro con Furlani, incontro con Zlatan Ibrahimović, ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l'ingresso, ormai certo arriverà al 100% di Chiroski, il dirigente ex Los Angeles Galaxy voluto fortemente da Zlatan Ibrahimović, che capiremo poi ufficialmente per il progetto Under 23, ma potrebbe andare a occupare parti del raggio di azione di Moncada, che è uno molto vigile rispetto a quello che può accadere, e poi domani un incontro molto importante. Dopo la partita, all'indomani della partita, e ora vi dico un WhatsApp che mi è arrivato ieri sera, domani incontrerà Comolli, non Comolli Gigli, quello era Comolli Gigli, Comolli del Tolosa, che può davvero arrivare al Milan. Qualcuno nei giorni scorsi spegneva un po', vi dico, versione ufficiale, entourage cardinale, ci dicevano che è stato più lui a proporsi, risulta però che domani ci sarà questo incontro, e quindi non è un incontro così tanto per. Comolli, comunque, ragazzi, è uno switch che io farei. Allora, si parla qui a Milano di possibile ingresso nel Milan come amministratore delegato, con competenza sportiva decisamente superiore rispetto a quella di Furlani. Ora vi dico il WhatsApp che mi è arrivato ieri sera. Detto questo, se fosse lo switch Furlani-Comolli, tutta la vita, io sono un grande tifoso di questo switch. Non è da escludersi poi che magari si dividono come Marotta e Antonello in area Inter, uno fa il lato sportivo, l'altro fa più il lato commerciale. Oppure, quello che trapelava, è che Furlani possa andare a lavorare con Redbird extra Milan. E quindi io sarei estremamente favorevole. Ragazzi, Comolli è un'esperienza comunque trentennale. Prima da allenatore, poi è diventato osservatore dell'Arsenal, poi ha fatto il direttore sportivo a Saint-Etienne, è andato al Tottenham, dove ha portato anche Modric, è tornato a Saint-Etienne, è andato poi a Liverpool, mettendo a segno il colpo Luis Suarez. poi sta un anno e mezzo al Fenerbace e poi torna in Francia come presidente del Tolosa. Comunque è uno che trent'anni ha masticato calcio, ha praticato calcio con ruoli diversi. Per me potrebbe essere davvero un buon innesto, barra ottimo innesto, soprattutto al posto di Furlani. Detto questo, io spero che ci possa essere anche continuità aziendale e ho un po' paura che questi scossoni, queste turbulenze, questa rivoluzione possa andare un po' a colpire la figura di Moncada, che come vi dicevo, secondo me, è l'unico vero intoccabile, perché ha dimostrato di saperci fare. Prima come capo scouting, poi anche come, diciamo così, direttore sportivo, direttore tecnico mascherato. L'whatsapp che mi è arrivato ieri sera, che arriva, diciamo così, da zona mercato, zona intermediari mercato, lo prendo, ve lo riporto con beneficio del dubbio, mi scrivevano che cosa? A parte sulla Juventus, Allegri va via, poi un'altra cosa di Juve che non mi ricordo. Vabbè, poco importa, noi pensiamo al Milan. Sul Milan mi scrivevano turbulenze interne, che significa tutto e nulla, credo più, dovuto a queste cose che possono cambiare. Mi scrivevano poi che, vi dirò come è andato, ma questa cosa mi sembra abbastanza chiara, che a oggi Pioli resta, su questo però non sono completamente d'accordo, e l'altra cosa che Comoli arriverà come presidente, quindi non come ministratore delegato. Dovesse arrivare come presidente non prenderebbe quindi il posto di Furlani, ma prenderebbe il posto di Scaroni. E anche qui, sinceramente, non avrei alcuna obiezione, anzi. Quindi, vediamo se arriva, domani ci sarà questo incontro, e secondo me il fatto che già quello incontri e che lo fai sapere diventa molto significativo. Lo porti al Milan o come presidente, come ministratore delegato, e andresti a occupare due caselle oggi occupate da persone che secondo me non sono all'altezza del Milan. non ho paura di farmi nemici, dico quello che penso. Per me Scaroni non è un grande presidente per il Milan e Furlani non è un grande amministratore delegato per il Milan. Comoli, figura di calcio da 30 anni, può portare sicuramente competenze calcistiche ed esperienza, soprattutto l'esperienza che manca, perché in cui ruolo Moncada, e io stravedo per lui, è alle prime armi come direttore sportivo e direttore tecnico. C'è Ottavio, poi figurati, Ibra ha le prime esperienze, Furlani ha le prime esperienze, quindi la competenza calcistica per me può essere una qualità indiscutibile che Comoli porterebbe, quindi non mi dispiacerebbe affatto. Vediamo domani come andrà questo incontro ed è una pista sicuramente calda da seguire con estrema attenzione. Io sono favorevole, poi però vorrei 5-6 anni di continuità aziendale significherebbe vincere e aiuterebbe anche a vincere perché quando cambi sempre dirigenza non è facile. Da questo punto di vista sapete cosa penso su Pioli, l'ho detto anche questa mattina, però anche per lui vedersi cambiare dirigenza spesso non lo ha aiutato sicuramente nel suo lavoro. Dall'altra parte Inzaghi ha fatto meglio di Pioli negli ultimi tre anni secondo me ha aiutato comunque da una dirigenza che è sempre rimasta la stessa che ha avuto margine di manovra che la nostra dirigenza non ha potuto avere e che lo ha sicuramente sostenuto aiutato dando anche solidità all'esterno. Ditemi che ne pensate andate però a votare subito su Instagram sulla nostra pagina seguiteci vi metto qui sotto il link vi aspetto alla festa di Milanello prenotate il vostro posto iscrivetevi numerosi da questa parte e vi rimando al video di questa mattina in cui vi parlo di alcune novità interessanti su Antonio Conte ci vediamo più tardi forza a Milan oggi più che mai domani ancora di più lasciate un bel like chi non lascia il like ti fa i lupacchiotti i giallorossi un abbraccio a tutti buon proseguimento di giornata ci vediamo più tardi ciao ragazzi a tra poco a tra poco